Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli dei principali quotidiani italiani. Il centro edizione di Pescara apre con il titolo di cronaca giudiziaria, sconto di pena al killer di Monia, la madre della psicologa pescarese l'hanno uccisa, un'altra volta questo è il commento al termine dell'udienza. Poi nel taglio alto, l'altra notizia di giornata traforo, scongiurata la chiusura a strada dei parchi cancella i rivieti dopo l'incontro di Marsilio e Mit in procura, perché la decisione sono tre le tappe che salvano l'Abruzzo dall'isolamento, poi all'interno del giornale andremo a vedere, corruzione, poi intanto i richiami dal nazionale lega altri guai, arrestato il sindaco di Legnano e l'intervista a Carlo Freccero, informazione televisiva senza propaganda. Andiamo a centropagina con il ciclismo, si parte da Vasto, traguarda l'Aquila, arriva il Giro d'Italia, festa rosa sulle strade d'Abruzzo per questa tappa tutta nella nostra regione con partenza da Vasto alle 12.30. Nello spazio delle cronache, Pescara verso il voto, Berlusconi chiama Carlo Masci, vincerai tu, l'esortazione e l'auspicio di Silvio Berlusconi. Poi la protesta, ecco i precari del Tribunale, noi senza futuro. Ancora Pescara, la manieria in lutto, è morto Massacese. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, cercare di morire per gelosia a 73 anni, è la riflessione odierna del taglio basso della prima del centro. Sempre sul centro andiamo a vedere l'edizione di Chieti-Lanciano Vasto, il titolo di apertura passa il Giro d'Italia, via la festa, partenza da Vasto e sfilata a Ortone-Chieti, traguardo volante a Ripa. Nel taglio alto ritroviamo la notizia della chiusura scongiurata del traforo del Gran Sasso, adesso invece ci spostiamo nello spazio dedicato alle cronache. San Vito cade dall'albero di ciliegie, muore a 73 anni, poi ancora da Chieti, aule con crepe, la preside, chiudo la scuola. Poi sempre dal capoluogo, truffa all'assicurazione, commerciante finge il furto di 600 occhiali. Andiamo a vedere adesso l'edizione teramana del quotidiano Il Centro, il titolo di apertura strisce blu gratis da metà giugno. Teramo decise la sospensione del servizio in attesa della nuova gestione. Andiamo a vedere lo spazio dedicato alle cronache, tra Teramo e Giulianova, tocca le ragazze sull'autobus e viene denunciato a Sant'Egidio, muore a 86 anni l'imprenditore Nardinocchi, poi a Giulianova sì alla megalottizzazione Cerulli Migliori. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro, chiaramente l'apertura è dedicata al Giro d'Italia, arriva il Giro nella città che rinasce. Attesa e tifosi in fermento all'Aquila, pecore rosa e tripudio di bandiere per attendere l'arrivo della carovana della Maglia Rosa. Poi ancora nelle cronache MAP, l'Aquila a casa a fuoco c'è l'ipotesi del cortocircuito. A Scurcula Marsicana perseguita un carabiniere e viene condannato. La cerimonia premio Pratola, un omaggio a Radio Radicale. Questo per quanto riguarda il centro. Adesso cambiamo testata e ci spostiamo sul messaggero. La prima dell'inserto a Abruzzo la vedete in questi istanti. Traforo chiusura scongiurata è il titolo di apertura. Chiaramente la notizia ieri è rimbalzata anche a livello nazionale. La fumata bianca dopo una giornata ricca di colpi di scena. L'annuncio di strada dei parchi che oggi presenterà una memoria in Procura a Teramo. Ieri il vertice proprio nella Procura a Teramana fra magistrati, Regione e Ministero dei Trasporti. Poi ancora l'Aquila rinasce e progetto case in abbandono. La rabbia che esplode nel capologo di Regione. A proposito dell'Aquila. L'Abruzzo si tinge di rosa. Oggi la tappa vasto l'Aquila. Il ritorno del giro. Vedete questa bellissima fotografia delle bici tra i monti. La corsa tra Marcord e nuove sfide. La carovana dei ciclisti attraverserà tre province lungo il percorso che toccherà Ortona Chieti e le svolte di Popoli. L'arrivo nel capoluogo dove si ricorda l'impresa di Pantani e Campo Imperatore nel 99. Dunque poi troveremo all'interno del giornale nella seconda parte della nostra rassegna un ampio spazio per il Giro d'Italia. Andiamo a vedere adesso le altre notizie. Psicologo uccisa per l'assassino sconto in appello. Caduta l'aggravante della premeditazione per Iacone. La pena scende da 30 anni a 17 per quanto riguarda l'omicidio di Monia di Domenico, 45 anni originaria di Corropoli, uccise in un appartamento al confine fa Francavilla al Mare e Pescara nel gennaio del 2017, precisamente l'11 gennaio. Poi Giuliano ha denunciato il palpeggiatore seriale sugli autobus. Andiamo a vedere di spalla. Liste d'attesa cambia tutto con i tutor e i doppi coup. La rivoluzione preparata dalla regione che stanzia 2 milioni per dare attuazione al piano dell'assessore Nicoletta Verì. Nel taglio basso andiamo a vedere invece il blitz al mercato. Sotto sequestro 4 quintali di frutta. Il blitz nel mercato ortofrutticolo di Cepagatti passato al setaccio dai carabinieri del NAS, dai forestali e dal nucleo ispettorato del lavoro oltre ai militari della stazione di Cepagatti. Sotto sequestro 4 quintali di merce, frutta soprattutto priva di documentazione. Andiamo a vedere poi invece i richiami nel taglio alto dalle pagine interne. L'intellettuale Giacomo D'Angelo, 80 anni tra libri e polemiche, festa a Pescara, Chieti, promossi i conti del Comune, arriva alla pagella dei revisori dei conti. Per quanto riguarda invece il calcio di Serie B, c'è il via ai play-off, bocciato il ricorso del Palermo. L'unico dubbio riguarda ancora la questione dei play-off che resta aperta per il mercato del futuro. Il club punterà sui giovani emergenti dalla Serie C, questo per quanto riguarda il Pescara. Dunque si parte con i play-off e con il Pescara che entrerà però in gioco nel secondo turno. Andiamo a vedere adesso la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura e di cronaca palpeggiava studentesse sul bus, maniaco seriale beccato e denunciato dai carabinieri, non potrà allontanarsi da Giulianova. Poi a centropagina, revocata la chiusura con la foto del traforo, strada dei parchi cambia idea dopo un vertice in procura, dietro fronte dopo che proprio nella mattinata di ieri strada dei parchi aveva invece rilanciato la chiusura fissata al 19 di maggio. Poi nel taglio alto oggi la protesta a Teramo, strisce blu, revocata la gestione alla Tercop Corropoli, dimezzata la pena per l'omicidio della psicologa. Abbiamo già visto in precedenza questa notizia. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Mote, riusciti confermato per il terzo mandato, maltempo e frane, odissea lungo le strade di Valle Castellana. Il Tarra riaccende il Manacara, Tortoreto, ennesima sconfitta legale per il comune. Nel taglio basso la manifestazione in programma sabato, Arcighei in piazza a Teramo contro la paura e la violenza. C'è poi l'editoriale del direttore della città, Alessandro Misson. I buboni sono sempre quelli per quanto riguarda il caso delle strisce blu della Tercop. Lasciamo le prime pagine regionali. Adesso ci spostiamo sul nazionale. Andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Il governo litiga sugli arresti. È il titolo che apre il giornale. Di Maio è una tangentopoli. I Salvini vogliono impedire la nostra vittoria politica e giustizia. Nomine in cambio di voti. Il sindaco leghista di Legnano finisce ai domiciliari assieme a un suo assessore. L'editoriale di Paolo Mieli. La guerra all'Europa è finita. Alcune domande che si pone Mieli e che riguardano il voto del 26 maggio. Il reddito di cittadinanza di spalle. L'articolo di Antonio Pulito. Marec e gli altri che rinunciano al nuovo sussidio. Per quanto riguarda poi il centropagina, andiamo a vedere la storia che propone il giornale. Il bimbo per cui si cercava un donatore e che ha fatto mobilitare l'Italia. Alex Guarito gioca con le bolle e le macchinine. Questa è veramente una bella notizia ogni tanto. Anche i giornali riescono a proporre, anche la informazione riesce a proporre qualche buona notizia. Andiamo sulla Repubblica. Il titolo di apertura Legnati a Legnano. Questo è il gioco di parole. Lombardia, un'inchiesta dopo l'altra. Arrestato per corruzione il sindaco della cittadina, simbolo della Lega. Il Movimento 5 Stelle attacca gli alleati. Dovete cacciare i corrotti. Il Viminale pubblica la lista dei trasferimenti di Salvini. Il Vice Premier ha anche usato un bimotore dei Vigili del Fuoco. È appunto il caso. Voli di Stato e comizi privati. L'articolo di Gianluca Di Feo. Poi il commento. La spada nella palude. L'articolo firmato da Gad Lerner. Nel taglio alto sotto la testata. Chi cancella la storia? Il supplemento culturale a 48 pagine e resterà in edicola tutta la settimana. Domani sul nuovo Robinson. Poi torniamo a centropagina. Berlino vigilerà sull'Italia. Intervista a Kramp-Karrenbauer, erede di Merkel a capo della CDU tedesca. Andiamo a vedere le altre notizie nel taglio basso. San Donato già dimenticati i ragazzi eroi dell'autobus e poi la rinascita Mick Jagger, la giovinezza della quarta età con un video del rocker che balla in palestra che ha fatto il giro del mondo. Poi ci spostiamo sulla stampa. Il quotidiano torinese apre così spread. Il governo isola Salvini. Il governatore Visco rischia credito per le famiglie e le imprese. La preoccupazione dell'equirinale. Dopo di Maio Conte anche il ministro Tria prende le distanze dal vice premier sullo sforamento del deficit paventato proprio da Salvini e che aveva fatto innalzare lo spread verso quota 300. Ancora tangenti. Arrestato il sindaco di Legnano. Il leader leghista sbotta contro di noi in corso un attacco senza precedenti. E poi chi scherza col fuoco? Il pericolo di una crisi finanziaria. L'articolo di Stefano Lepri a commento appunto del titolo di apertura. Andiamo a centropagina. Più soldi che affazio. Scontro sul ritorno di Fiorello a Rai 1. E poi la decapitazione di 1 mattina. Sono le notizie e gli articoli che riguardano la televisione di Stato. Poi ci spostiamo sul fatto quotidiano. Il titolo di apertura lega un problema. Se queste inchieste salgono più in alto Luigi Di Maio viene intervistato dal fatto. Parla il vice premier e capo dei 5 Stelle. Mentre i giudici decapitano la giunta a Legnano e l'assessore svela un accordo con Salvini. La fotonotizia. Il Papa respinge Salvini. La chiesa va punito dai cattolici nelle urne. Vaticano niente udienza se non cambia registro. Questa è la posizione del Vaticano. E poi a centropagina. Salto nero ai Rom. Informativa dell'arma sui rossi. A uso leghista. Casal bruciato. L'iniziativa dei carabinieri contro i centri sociali. Sgraditi a Salvini e compagni. Per quanto riguarda la sanità. Umbria. Il PD famelina sull'uscita della Marini. Ricorderete l'inchiesta sulla sanità Umbra. Andiamo sul sole 24 ore. Il quotidiano economico e finanziario di Confindustria. Retromarcia sui sindaci e revisori per le società. Siamo al decreto crescita. In arrivo correzioni. Ridotto il numero degli incarichi. Non saranno più 150 mila. Rivisti i parametri su attivi. Ricavi e dipendenti che fanno scattare l'obbligo per le SRL. Sarirà a 30 miliardi di attivo. La soglia sotto cui le popolari evitano di trasformarsi in SPA. Dunque queste le correzioni e le novità. Poi per quanto riguarda il debito pubblico. Titoli di Stato. Tassi reali positivi in tre paesi dell'Unione Europea. Rendimenti più alti dell'inflazione solo in Italia. Portogallo e Grecia che insomma sappiamo che sono i paesi più a rischio per quanto riguarda il debito sovrano. Poi la fotonotizia. Robot. Installazioni record in Italia. Più 11,5%. Per quanto riguarda l'automazione. Facciamo meglio della Cina. E poi l'agricoltura. Xylella. 30 milioni di olivi da abbattere. Questa purtroppo è una piaga davvero pesante. Soprattutto in Puglia dove la produzione di olio d'oliva è diminuita del 9,5% negli ultimi sei anni. Secondo l'EFSA, agenzia dell'Unione Europea, l'intera Europa può essere considerata a rischio. Notizia da tenere molto in conto anche per quanto riguarda la nostra regione perché è molto vicina alla Puglia e perché ha grande produzione di olio di qualità. Ci spostiamo su Avvenire e andiamo a vedere i titoli del quotidiano cattolico. Il risico europeo apre il giornale, Alleanze Unione Europea, i socialisti chiamano Tsipras e Macron, PPE no ai sovranisti, ecco i candidati cattolici nelle diverse liste, Tria lite con l'Austria sul debito. Confronto in TV tra i capilista e l'Europarlamento, la difficile ricerca di una maggioranza. L'editoriale è firmato da Maurizio Patriciello, troppe altre porte chiuse, una storia di migranti e migranti per forza. Poi andiamo a centropagina, Lega, la disfatta di Legnano, arrestati sindaco e giunta, accuse di corruzione, forte illegalità, e il Movimento 5 Stelle affonda il colpo se s'allarga e crisi. E poi nella fotonotizia Napoli, dopo lo sgombero rifugio in un'ex fabbrica, Rom a Giuliano ancora abbandonati. Lasciamo avvenire, ci spostiamo sul manifesto, il quotidiano comunista apre così, con questa foto di Salvini, duces in fundo. Il gioco di parole, il decreto sicurezza di Salvini non si discute. A Palermo, docente punita con la sospensione senza stipendio su pressione della sottosegretaria leghista all'istruzione, accusata di non aver controllato un video degli alunni sulle leggi razziali nel giorno della memoria. Dopo la rimozione degli striscioni dei balconi, anche la scuola diventa campo minato. Nel taglio alto, porti chiusi alla nave delle armi Saud, mobilitazione europea contro il cargo di Riad, i camagli di Genova, qui non attracca. Lasciamo il manifesto, ci spostiamo sul messaggero e torniamo agli arresti nella Lega, lite nel governo, corruzione per il sindaco e due assessori a Legnano. Di Maio, il voto dato a noi e contro le tangenti. Lira di Salvini citato in un'intercettazione, siamo sotto attacco, il tento è il blitz sul DL, sicurezza bis. Poi l'incubo inchieste per il retroscena nel fortino Lombard, violato dai PM, strane coincidenze. L'allarme di Banca Italia sullo spread, tria frena sul debito, Vienna Cusa sfida sull'uso del tesoretto del reddito. Poi studenti e prof, Matteo e il Duce, catena di errori dietro quel video. L'editoriale di Alessandro Orsini, Aftar a Roma, l'Italia non può lasciare la Libia scivolare verso il Medio Oriente, questione libica che è sempre d'attualità. Andiamo a centropagina, migranti e tabacco, l'ultimo business del contrabbando con il dossier della Guardia di Finanza sul traffico di sigarette e gasolio, i criminali li scaricano vicino alle nostre coste. Per quanto riguarda il caos a Roma, ricorderete Casa Pound e Forza Nuova, Rom 65 indagati per quanto accaduto a Casal Bruciato. Poi a centropagina il caso De Rossi, siamo al calcio, in un audio l'ultima trattativa fallita tra De Rossi e Raloma, 100 mila a match, la proposta rifiutata dalla bandiera giallorossa. Poi sul tempo ancora quotidiani romani, il titolo di apertura hanno acceso il rogo per Salvini. Inchiesta raffica sui fedelissimi e la Corte dei Conti che indaga sui voli di Stato, ovunque spunta una vittima del leader leghista, pure Di Maio ti fa spread contro di lui. Questa è la posizione del tempo, ancora a centropagina, il caso De Rossi fa pezzi la Roma, il capitano contro Pallotta mi caccia e mi propone il contratto a gettone, Ranieri è con lui. Poi ritroviamo anche notizie dalla nostra regione, salvato tra virgolette il traforo della 24, niente caos in autostrada, il Gran Sasso non chiude. Andiamo a vedere adesso Libero, inchieste prima del voto, meglio riderci su, caccia giudiziaria al leghista, arrestato il sindaco di Legnano del Carroccio, indagine su Matteo perché due volte al mese sale sull'aereo della Polizia. Di Maio evoca Tangentopoli e scorda i suoi capoccia a processo. Il capitano, siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere. Questo quanto riportato da Libero, il nemico è Salvini, a centropagina calano i reati, aumenta l'odio, scrive Pietro Senaldi. Andiamo a vedere il giornale. Conti allo sbando, si muove Mattarella, il colle preoccupato per lo spread, Banca Italia, Pesa, su famiglie e imprese, Berlusconi, sovranisti destinati all'isolamento. Questo è il quotidiano diretto da Sallusti. Poi il vero record dei 5 stelle, fanno il pieno di soldi pubblici, finanziamenti ai partiti, 16 milioni all'anno. Se nemmeno Grillo vota i grillini, il garante ha perso la pazienza. E poi manette il sindaco di Legnano, Lombardia, un arresto al giorno, lega nel mirino delle toghe. Sulla verità, titolo di apertura, piazze scatenate, scontri a Napoli, vogliono abbattere Salvini. Tra poco si vota e le inchieste sui leghisti spuntano come funghi. L'ultima a Legnano. Anche il vicepremiere nel mirino dei giudici per i voli di Stato, caso sollevato da chi chiudeva gli occhi sugli elicotteri di Renzi e cavalcato dai presunti alleati di governo. A proposito di alleati di governo della Lega, il suo candidato a Cagliari non fa il tifo per l'aborto, Di Maio lo espelle. Andiamo a centro pagina, ancora sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Meno migranti, meno reati, ecco i numeri diffusi dal Viminale. Poi Zingaretti schizofrenico, il PD custode dei conti, spara un piano elettorale da 100 miliardi. decisione pesante, Draghi ha in mano le sorti di Carigie e un pezzo di elezioni. Andiamo a vedere poi sul secolo e ora pagate voi, è il titolo che apre il giornale, basta bollette pazze, se l'azienda sbaglia arriva la proposta di Fratelli d'Italia per far pagare una penale. Poi in primo piano Rom si mettano in fila, Meloni italiani penalizzati, voli di Stato, che polemica, Viminale smentisce tutto. Incontro a Ftar Conte, no a una crisi in Libia. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, il titolo principale, eccolo qui, Salvini contro PM, Movimento 5 Stelle, nuova inchiesta in Lombardia sulla corruzione, arrestato il sindaco leghista di Legnano, il vice premier, mai così sott'attacco nella magistratura. C'è una sponda ai 5 Stelle. Scontri e contestazioni a Napoli, il ministro, un piano anticlan, questo per quanto riguarda la visita di Salvini con anche la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il voto del 26 maggio è due isole simbolo, Europa antipatica, anche da Ventotene partono i migranti e poi solo a Bruxelles si ricordano di noi a Lampedusa. Andiamo invece nel taglio alto, Noemi chiama mamma, anche il papà parla per la prima volta alla madre della bambina ferita a Piazza Nazionale, questo per quanto riguarda le interviste che propone il giornale. Andiamo a vedere adesso i principali quotidiani sportivi nazionali, partiamo, la vedete dalla Gazzetta dello Sport, il titolo di apertura signora Icardi e non è Vanda. Maurito ha scelto e vuole la Juve, ma l'Inter lo avvisa, via soltanto alle nostre condizioni e Spalletti caccia Joao Mario dall'allenamento. Poi ancora signora Allegri, oggi si decide? Soldi e mercato, i nodi sono tanti, trattativa a fiume con Agnelli e compagni per l'allenatore della Juve. Le strategie del Milan di spalla, la rivoluzione di Gazzidis, Leo a rischio, dubbio gattuso tra Donnarumma e il PSC, c'è un ritorno di fiamma. Un caffè con, ira per Cassi, danno grave all'Atalanta, Var doveri, questo per quanto riguarda le polemiche dopo la finale di Coppa Italia. Ancora a San Giovanni Rotondo, siamo al giro, vince Masnada, Conti in rosa, giro ribaltato dagli italiani, fuga tricolore, via libera da Roglic, oggi si arriva all'Aquila partendo da Vasto. Il grande tennis a Roma, magia a Federer che rimonta fuori Fognini e i suoi fratelli, Roger fa impazzire il foro, Fabio s'arrende a Tsitsipas. Poi nel taglio basso la Super Champions e le polemiche, il no della FIGC, gravine, i campionati non si toccano in Europa solo per meriti, Consiglio federale torna il mercato lungo, chiuderà il 2 di settembre. Andiamo a vedere poi il Corriere dello Sport, il titolo che apre il giornale, così mi hanno cacciato, siamo chiaramente al caso De Rossi. L'atto d'accusa della bandiera giallorossa, bufera Roma in un audio tutti retroscena sull'addio del capitano della Roma, Ranieri, io lo avrei confermato, Ferrero lo voglio alla Samp. Nel taglio alto, altra trattativa, Max Agnelli, terzo round, anzi a Juve non c'è la fumata bianca, già oggi un altro incontro per cercare un accordo con l'allenatore. Andiamo a vedere le altre notizie, Guardiola rischia la Champions, fair play finanziario, l'UEFA processe il Manchester City, il Palermo altro no al via i playoff, oggi spezia cittadella play out si va al CONI e poi rabbia azzurra, Roma è straniera internazionali, fuori tutti gli italiani, follia di Kirgios. E poi l'impresa dell'Under 17, gli azzurrini sono in finale agli europei, battuta in rimonta la Francia, titolo e sfida contro l'Olanda. Andiamo a vedere poi il quotidiano sportivo, il titolo di apertura, fumata bianconera dopo due giorni di trattative, Allegri e Agnelli non trovano l'accordo, oggi ci riprovano ma non è da Juve partire con così tanti dubbi. la riflessione di Italo Cucci, VAR, business e non giustizia, questo per le polemiche appunto sul VAR nella finale di Coppa Italia, di spalla il tennis, Federer, Nadal e Djokovic avanti negli internazionali di Roma, impresa dell'Italia, finale europea per gli Under 17, nel taglio basso la Serie A, Inter e Milan, nervi tesi, Spalletti caccia il pigro, Gioao Mario, Leonardo e solo contro tutti, poi Atalanta dopo la beffa in Coppa Italia, la testa è già alla partita contro la Juventus che dovrebbe segnare le sorti Champions dell'Atalanta e poi rugby top 12, febbre da scudetto per Calvisano, domani la finale contro Rovigo, il padron Vaccari, siamo i più forti. E adesso noi ci fermiamo per questa prima parte di Rassegna Stampa, diamo spazio alle previsioni del tempo per le prossime ore e poi dopo la pubblicità torniamo con la seconda parte della nostra Rassegna, le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra Rassegna Stampa, andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal primo piano del centro che ci parla della questione acqua delle Gran Sasso, trovata la soluzione almeno per il momento per il traforo che dunque resta aperto per decisioni di strada dei parchi, spenti gli avvisi sulla A24, questa è la scritta che compare da ieri sera, anzi che è scomparsa da ieri sera, che annunciavano il divieto di transito da domenica. Fabris, obiettivo raggiunto con le tappe che hanno portato alla decisione, ora tutti esultano da Vacca, Marsilio e Biondi, le reazioni per l'annuncio di strada dei parchi dopo la tensione di ieri, ma l'Aquila vota per la revoca della concessione autostradale, documento polemico dopo il Consiglio Comunale straordinario sempre nella giornata di ieri in cui c'è stato anche il summit in Procura Teramo, Marsilio e Scaccia dai PM, l'incontro risulta decisivo, il governatore e il capo di gabinetto di Toninelli vanno dai magistrati di Teramo e ricevono di fatto il via libera agli interventi di messa in sicurezza decisi fino ad ora. Nel taglio basso spunta un piano della Prefettura tra gli atti in mano ai magistrati teramani, c'è anche un dossier sui rischi sismici dei laboratori del Gran Sasso. Andiamo a vedere la notizia sul quotidiano Il Messaggero, eccola qui Gran Sasso, la fumata bianca, il traforo non chiude, l'annuncio dopo il vertice in Procura, la retromarcia di strada dei parchi dopo una giornata di colpi di scena, la società presenterà una memoria proprio questa mattina per attenuare i rischi processuali che avevano spinto, almeno questa la motivazione ufficiale, strada dei parchi a decidere per la chiusura. Oggi il vertice al MIT permette appunto il monitoraggio ambientale, Fabris puntiamo a evitare rischi ambientali. Poi andiamo a completare questa pagina, gli 80 anni di Giacomo D'Angelo, la mia vita tra libri e le polemiche. Andiamo a vedere cosa scrive sulla chiusura del traforo del Gran Sasso, la città, dietro fronte ufficiale, strada dei parchi ha revocato la chiusura del traforo, il vertice tra governatore e procuratore chiarisce, atto totalmente ingiustificato dall'inchiesta già chiusa a braccio di ferro nelle ultime settimane, la comunità abruzzese si è sollevata contro la decisione del gestore delle autostrade a 24 ed a 25, noi possiamo andare a vedere insieme il servizio. Il traforo del Gran Sasso non chiuderà, il pressing delle istituzioni e l'incontro con i magistrati terramani alla fine hanno fatto desistere strada dei parchi concessionaria di a 24 ed a 25 che è così deciso per la revoca della delibera che aveva fissato al 19 di maggio la chiusura del traforo tagliando in due l'Italia centrale. La notizia è stata diffusa dal vicepresidente di strada dei parchi Mauro Fabris che a Lanza ha aggiunto come domattina ci sarà l'ultimo incontro tecnico al Ministero dei Trasporti per concordare le azioni da intraprendere. Sempre domani mattina, ha proseguito Fabris, la concessionaria depositerà una memoria in procura a Teramo in cui a tutela dei propri dirigenti e della stessa società ribadirà quanto è stato fatto finora e quanto intende ulteriormente realizzare per la messa in sicurezza i fini ambientali delle Gallerie del Gran Sasso, almeno per quanto riguarda le proprie competenze. Tutto questo nell'attesa che il Governo e il Parlamento confermino con decisioni conseguenti i provvedimenti come la noimina di un commissario straordinario dotato di poteri e risorse adeguate per risolvere i problemi dell'acquifero del Gran Sasso. Su questo il Presidente della Regione Abruzzo Marsilio si era espresso proprio a margine della riunione con i magistrati in procura a Teramo auspicando un'accelerazione del liter di approvazione dello sblocca cantieri. Si blocca cantieri che conterrà le norme che il Governo sta predisponendo per individuare il commissario e risorse per dare soluzioni a tutti i quali problemi e nel frattempo un rafforzamento dei protocolli di vigilanza, di non ritoraggio sulle acque. Insomma stiamo tutti facendo passi in avanti e quello che serve per arrivare a risolvere la questione e credo che alla luce di questo anche a Strada dei Parchi si potrebbe sentire serena. Così il passo in avanti auspicato dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto alla fine c'è stato anche perché come aveva pamentato lo stesso primo cittadino con una nota diramata nel primo pomeriggio per evitare una reiterazione di reato, quello di inquinamento ambientale per cui si svolgerà a settembre il processo a Teramo, Strada dei Parchi rischiava di incappare in un altro reato, quello di interruzione di pubblico servizio. Andiamo avanti, nella pagina Abruzzo della città troviamo la sanità, approvato il piano per tagliare le liste d'attesa, l'aggiunta punta sulla rivoluzione del sistema di prescrizione e prenotazione, stanziati 2 milioni per il personale. Le AS saranno tenute a perseguire l'obiettivo dell'apertura dei servizi diagnostici in maniera continuativa, almeno 6 giorni a settimana i controlli, per controllare la messa in sistema della misura saranno istituiti due organismi regionali. Nel taglio basso di questa pagina si alzano i toni della campagna elettorale a Pescara, scontro tra Masci e Sclocco, duro botta e risposta tra i due candidati sindaci di centrodestra e centrosinistra durante l'incontro di Confesercenti, poi vedremo più avanti anche i titoli nelle pagine di Pescara. Torniamo invece alla sanità, nella pagina Abruzzo del centro, le misure della giunta salgono a 18 milioni, antiliste d'attesa, Marsili e Veri, i fondi serviranno per assumere nuovo personale negli ospedali e per migliorare l'informatizzazione. Paolucci dice che quei soldi furono stanziati dalla nostra giunta, questa dunque la polemica sollevata dall'ex assessore alla sanità. A centro pagina accuse sui fondi contro gli incendi, il Movimento 5 Stelle attacca l'esecutivo, pettinari presi da quelli destinati al distesto idrogeologico. Poi i rifiuti trasformati in carburante per aerei, l'Aquila progetto di tre studenti della Facoltà di Ingegneria che vince il concorso della British Airways. Poi andiamo a vedere sul messaggero lo spazio dedicato al Giro d'Italia. Ecco il Giro Amarcord tra Bartali e Coppi, ma il mito resta Pantani tra la neve. In oltre cent'anni memorabile l'arrivo a Campo Imperatore del 99, epica fu la tappa Bari-L'Aquila, una sorta di transumanza in bici. Dunque questi ricordi legati proprio all'arrivo del Giro d'Italia in Abruzzo. Dolce a tema e vetrine colorate di rosa, una città intera in fermento per la corsa, chef a lavoro all'Aquila per preparare i piatti dedicati. L'artista Ciccozzi donerà due opere al vincitore dopo la tappa grande festa in Piazza Duomo con street food e tanta musica anche nei locali per cercare di rilanciare anche le attività in centro storico e il turismo all'Aquila. Ecco il Giro, andiamo nella tappa, la corsa attraversa le tre province ferite, partenza da Vasto dopo 11 anni attraversando la costa dei Trabocchi, due abruzzesi in corsa e due che invece fungono da manager. Andiamo a vedere chi sono gli abruzzesi, c'è Giulio Ciccone, 24enne Teatino alla sua quarta partecipazione al Giro e poi Dario Cataldo tra i veterani, 34enne che corre per i colori della Astana, manca Fonsi il re della maglia nera, Giuseppe Fonsi il ciclista di Cepagatti che però quest'anno non c'è. Percorso molto impegnativo con arrivo all'Aquila, l'ultimo chilometro il più duro con pendenze oltre il 5%, il pescarese Giuliani guida la Vini Nippo Fantini, il pinetese Spezialetti, l'Androni Giocattoli, Sidermec questo l'approfondimento sul messaggero e già che ci siamo restiamo in tema Giro d'Italia anticipiamo un po' la pagina sportiva e andiamo a vedere quello che invece scrive il centro sulla tappa tutta abruzzese del Giro, da Vasto all'Aquila, Festa e Passione, alle 12.25 il via della settima tappa del Giro che paralizzerà i 185 chilometri del percorso, Ciccone, Cataldo e la Nippo Vini Fantini i più attesi. Qui ci sono anche un po' gli orari dei passaggi attorno alle 14.40 dovrebbe arrivare il Giro a Chieti e poi man mano si passerà nella provincia di Pescara e poi all'Aquila alle 16.17 le svolte di Popoli e poi alle 17.25 circa l'arrivo previsto all'Aquila. Andiamo a vedere poi la pagina successiva, un italiano in rosa dopo tre anni, tocca a Conti, la fuga va in porto, tappa a Masnada e il romano Spodesta Roglic, lo sloveno ha un ritardo di 5.24, avendo perso 7.19 dai primi al traguardo, Iets e Nibali giunti sempre a 7.19, sono rispettivamente a 5.59, 6.03 questo per quanto riguarda la classifica ma chiaramente siamo solo all'inizio del Giro. Ancora il Giro d'Italia in Abruzzo, Sciotti Orgogli e Passione, in fuga per avere visibilità, il patron della Nippo Vini Fantini, spero che la mia squadra oggi sia protagonista, Ciccone è determinato nel conservare la maglia azzurra, Cataldo sta bene. Ancora Ulisse, il re del vino in ammiraglia, l'imprenditore pescarese sponsor dell'Androni, il Giro è un'emozione unica, racconta al giornale. Chiudiamo così questo spazio dedicato al Giro d'Italia, restando ancora sul quotidiano Il Centro, invece torniamo alle pagine che riguardano Pescara, torniamo alla cronaca, ripartiamo dalla giudiziaria alla sentenza sull'omicidio della psicologa nel 2017, Monia dimezzata la pena all'assassino, la mamma uccisa una seconda volta, delitto di Francavilla, la Corte d'Assise d'Appello riduce da 30 a 17 anni con l'abbreviato, la condanna Iacone. La rabbia della famiglia è stato peggio del giorno dell'omicidio perché stavolta l'ha ammazzata lo Stato. E poi caduta l'aggravante della crudeltà per quanto riguarda la sentenza, ecco perché la Corte Aquilana ha riconosciuto lo sconto di pena a Iacone. Andiamo avanti, lo sciopero dei magistrati onorari, i precari della giustizia si fermano da 20 anni senza garanzie, l'astenzione dalle udienze è stata talmente massiccia da costringere il procuratore Serpi e tutti i togati a rappresentare l'accusa davanti ai giudici di pace per evitare il blocco dei processi. Andiamo a vedere le altre notizie verso le elezioni, il caso di Via Battisti, la movida più lunga fa inforiare i residenti, ora è un caso politico, polemica sull'estensione dell'isola pedonale, accuse al PD, sclocco, io punto al dialogo, il centrodestra chiuderà i locali. Civitaresi fa campagna sugli autobus, il candidato a sindaco con la moglie, poi Berlusconi invece chiama Masci, vincerai al primo turno, telefonata del leader di Forza Italia durante la riunione politica del partito. Ancora le elezioni comunali a Pescara, commercio e traffico da regolare, scintille tra i candidati a sindaco, scambi di accuse fra Masci, Sclocco e Teodoro nel confronto pubblico organizzato da Confesarcenti, firmato un documento con alcuni distinguo che impegna chi verrà eletto a rilanciare le mini imprese. Andiamo ancora avanti, restiamo a Pescara, Via Regina Margherita, riaperta al traffico, polemiche in Via Pepe, cantieri in città proseguono gli interventi in centro, i commercianti della zona stadio, chiederemo i danni, di spalla società del comune, nasce Adriatica Risorse SPA, l'amministratore è Di Michele. Ancora da Pescara, Dio a Massacese, marineria in lutto, capitano di imbarcazione, aveva 63 anni, poi la cronaca, maltratta la madre per ottenere soldi e finisce in carcere, notizia che arriva da Loreto. Nella pagina di Montesilvano, verso il voto, Movimento 5 Stelle, i nostri gettoni al commercio, impegno dei candidati pentastellati con confesercenti, i nostri compensi per le attività locali. La lista che sostiene Fidanza e Centrosinistra hanno zero punto a fare grande Montesilvano con la nuova Pescara. Città Sant'Angelo, verso il voto, la vendita dei beni comunali, quattro candidati a sindaco a confronto per far fronte alla mancanza di liquidità, l'amministrazione costretta a cessioni per chiudere i bilanci, ma la dismissione della farmacia e dell'ex Gigiotto Parca hanno causato scontri e sollevato polemiche. Qui ci sono le opinioni di tutti i quattro candidati a sindaco. Ci spostiamo a Francavilla, lotta all'erosione, ripascimento in ritardo, avvio di stagione a rischio, Riccardo Padovano della Sibcommercio chiede l'intervento della regione, la proroga dei lavori al 15 giugno diventa indispensabile e di somma urgenza. Nel weekend torna Francavilla, Fiore e Fragole, manifestazione che era stata rimandata la scorsa settimana, causa maltempo. Andiamo nella pagina della Val Pescara, si sente male e muore nel giardino di casa, Loreto Aprutino, Antonio Chiarelli, dipendente storico della Fornace, aveva 90 anni, oggi funerali, mercato ottofutticolo, blizze di carabinieri all'alba, cepagatti, controlli dei militari del NAS e dell'ispettorato del lavoro all'apertura del mercato, sequestrati 4 quintali di prodotti tra frutta e verdura, privi di tracciabilità. Stoppa le auto, dalle 13 alle 16 passa il Giro d'Italia, Tiburtina chiusa e niente scuola a Scafa. Poi Bolognano verso il voto, trasparenza, partecipazione e legalità, dice Guido di Bartolomeo, d'Insieme per un impegno comune, le priorità Centro Storico Verde e PRG, Antonio Di Marco di Progetto Comune. Andiamo nelle pagine di Pescara, del messaggero, eccole qui, ripartiamo dalla campagna elettorale a Pescara, i candidati sindaco a confesacenti, chi vince decide, l'associazione incassa firme con riserva sui temi caldi, sia al dialogo no a condizionamenti, dicono gli otto in corsa per Palazzo di Cittata. Qui in elettorale Teodoro si presenta al Sant'Andrea e poi ci sono anche tutti gli altri eventi degli altri candidati. Di spalla Pescara Abruzzo perde ricorso e dovrà versare 105 mila Euro nella lite con Tercas. Poi nel taglio basso di Michele al vertice di Adriatica Risorse, prima assemblea della società in house sui tributi, Verini presidente del collegio sindacale, il saluto del sindaco. Nella pagina successiva, mercato ortofrutticolo, sigilli a quattro quintali di merce, abbiamo già visto in precedenza il blitz a Cepagatti, poi ancora appena ridotta al killer della psicologa da 30 a 17 anni in secondo grado per l'uccisione di Monia di Domenico. Anche questa notizia l'abbiamo vista in precedenza con la reazione sdegnata della famiglia, caduta in appello all'aggravante della crudeltà in aula, come detto, alla amarezza dei genitori della vittima. Ci spostiamo adesso sempre sul messaggero sulle pagine di Chieti. I revisori dei conti certificano il Comune sta lavorando bene, l'assessore Luise, bilancio in equilibrio, gli stanziamenti garantiscono l'attività, nessun nuovo debito e 29 milioni derivano dal riaccertamento dei risultati fatti nel 2015. Poi passa il giro d'Italia, scuole chiuse, divieti e bus a singhiozzo, una giornata campale per pendolare automobilisti, stand dell'Uda a San Giustino. Ancora Fast and Furious in autostrada, due teatini denunciati a Treviso, questo per quanto riguarda la cronaca. Nella pagina successiva Piscine, nuovo gestore si punta al rilancio, la società teatina di Serpellini vuol far ripartire i servizi da settembre e intanto è partita la diffida verso la Sport Life. Inizia la conta dei debiti, dai sopralluoghi che si sono svolti, è emersa una struttura lasciata totalmente in abbandono e noi possiamo andare a vedere il servizio. Cambia la proprietà del concessionario alle Piscine Le Gemelle di Lanciano. Esa Sales Network SRL di Chieti acquisisce le quote della Wellness. La comunicazione ufficiale è arrivata in municipio ed è al baglio degli uffici comunali. Il rappresentante legale della società Walter Serpellini incontrerà il sindaco Mario Pupillo mercoledì prossimo 22 maggio per illustrare i programmi di rilancio e potenziamento della struttura che conta 2.300 iscritti. Il centro sportivo è rimasto chiuso da settimane dall'ultimo distacco delle utenze, una gestione quella di Vincenzo Serraiocco che ha visto fasi alterne negli ultimi mesi. Il gestore della Sport Life è stato fortemente criticato sia dagli stessi istruttori che hanno più volte incrociato le braccia per protesta, sia dai numerosi utenti rimasti all'improvviso senza servizio pagato con gli abbonamenti. Una situazione insostenibile che si è aggravata con il passare delle settimane e con il distacco delle varie utenze di luce, gas e acqua. E se c'è stato il passaggio societario non è invece ancora avvenuta la consegna delle chiavi della struttura sportiva di Via D'Annunzio. L'ESA ha diffidato la Sport Life di Pescara a lasciare i locali entro 15 giorni, ma come e quando riaprirà il centro sportivo al momento nessuno lo sa. Pagine di Chieti sul centro. Aurea rischio. Lo scontro. Crepe e infiltrazione a scuola. La preside. Ora chiudo gli istituti. La dirigente di Brecciallora denuncia le condizioni di due plessime. Il comune non interviene. Scatta la diffida stop alle elezioni in assenza di rassicurazioni sulla sicurezza. Entro domani. Poi finto furto di 600 occhiali per il rimborso. Il negoziante voleva incassare i soldi dell'assicurazione stipulata sette giorni prima. Ora è indagato. San Vito. La tragedia accade dall'albero di Ciliegie e muore. Pensionato di Montesilvano precipita da un'altezza di 5 metri. Voleva portare i frutti a casa per fargli assaggiare alla famiglia. E poi la denuncia del Tribunale dei diritti del malato Narciso. Pazienti dirottati dall'ortopedia di Chieti o Lanciano. L'ite per un serpente dipendente Asle nei guai. Chieti magazziniere della farmacia denuncia un collega di lavoro e si mette in malattia ma è tutto falso. Poi Bob Sinclair sbarca a Fossa Cesia. Il concerto è previsto il 10 di agosto. Pagine di Teramo sul centro. Il caso La Torre ha 13 anni dal disastro da Alberto nominato commissario per chiudere la di scarica crollata. Il provvedimento della regione avvia il percorso per la definitiva bonifica del sito. Sono disponibili 2,6 milioni del masterplan. I residenti chiedono in vano da anni di risolvere l'emergenza ambientale. Valle Castellana. Il referendum per passare ad Ascoli si farà, lo assicura il sindaco D'Angelo al comitato che spinge per il spostamento del comune. La cronaca palpeggia le ragazze sul bus e viene denunciato. Albanese molestava le studentesse dirette da Giulianova a Teramo e Pescara. È accusato di violenza sessuale sui minori. Poi ancora è morto Nardinocchi, un big della vibrata. Sant'Egidio aveva 86 anni e è stato fra l'altro imprenditore politico e presidente di associazioni. Poi ancora capannone crollato a Sant'Omero. De Eugenio i tecnici pagheranno 5 mila Euro. Nella pagina successiva scontro fra i candidati sul rischio idrogeologico. Pineto è stato questo il tema del primo incontro fra i quattro aspiranti sindaco nell'assemblea pubblica organizzata dal comitato di quartiere di Villa Ardente. Nel taglio basso a Silvi il disavanzo sfiora i 2 milioni e mezzo pubblicato il consuntivo 2018 pesa soprattutto l'accantonamento per crediti non riscossi. Andiamo nelle pagine di Teramo sul messaggero. Tercop interrotto il servizio e le strisce blu tornano bianche. Dopo l'inchiesta il caso in Parlamento il comune sospende la concessione. Tra un mese tutti i parcheggi liberi si tine dei 29 lavoratori in municipio. Poi crolla il tetto del prefabbricato. Se la cavano con 5 mila Euro nell'udienza di ieri in tribunale. muore mandante di tentato omicidio. Estinto il processo. Sempre notizie che arrivano da Palazzo di Città. Scusate da Palazzo di Giustizia. Nuovo ospedale carenza di organico. Asl sotto esame nel taglio basso. Critiche dal comitato ristretto dei sindaci e dal tribunale del malato. Migliaccio dice non si pensa al paziente. Nella pagina della provincia segue e molesta le studentesse sul bus preso l'albanese. Abbiamo già visto in precedenza. E poi ultimi giorni di appelli per i cinque comuni al voto nella Val Vibrata. Sulla città le notizie dal Terramano Arcighei in piazza contro la paura. Sabato manifestazione per celebrare la giornata mondiale contro l'omofobia. Strisce blu. Revocata la gestione Tercop determina dirigenziale che sospende il servizio per il 15 di giugno. La cooperativa oggi protesta in municipio. Andiamo avanti. Eco isole. Prima di luglio non se ne parla. Non si sa ancora dove verranno installate per la sperimentazione. Ma c'è il calendario degli incontri. Riusciti confermato altri tre anni al mote. L'amministratore uscente confermato al terzo mandato alla guida del consorzio dei rifiuti di 29 comuni. Terramo sbanca il Green Jobs di Milano. Le saponette all'agenziana dell'Einstein di Terramo. Il bike sharing turistico del Moretti di Roseto premiati alla fiera ambientale. Per quanto riguarda le frane. Odissea tra le strade di Valle Castellana. L'ultima ondata di maltempo. Aggravata la già delicata situazione della viabilità. Residenti e automobilisti esasperati di spalla. Isola del Gran Sasso. Degrado in curia al cimitero. La denuncia di crescita comune. E poi il Tar riaccende la musica al Manacara. Concesso una prima sospensiva contro la revoca della licenza da parte del comune di Tortoreto. Fondi per evitare il fallimento. Truentum colonnella. Il consiglio stanza 1,3 milioni per far accogliere il concordato. Nella pagina di Roseto la delibera sulle insegne legittime. Il sindaco risponde ai dubbi di Pavone sulla sospensione degli aumenti. E poi il consiglio comunale di Roseto. Scintille sul bilancio consuntivo soddisfatto di giro ramo. Ridotti spesa corrente e debiti. Opposizione all'attacco. Cerca di incantare i cittadini. Andiamo e torniamo sul centro. Pagine dell'Aquila. Stalking. Violenza nella Marsica. Per seguito a un carabiniere viene condannato. 54 anni. Credeva che il militare avesse una relazione con la ex compagna. E poi nel taglio basso. Case divorate dal fuoco. Si seguono più piste. Errogono i mappi a San Gregorio. Un cortocircuito. L'ipotesi più accreditata. Vandali in azione. Scatta la denuncia. Sparisce la foto di Pezzopane in mostra. Il fotografo artista Roberto Grillo commenta. L'opera è stata rubata. Non trovo le parole per definire questo gesto. Il cardinale Zivitz torna in visita alla Ienca. Troppi ritardi nei lavori a servizio del santuario. E poi nel taglio basso torna il premio nazionale. Pratola Peligni all'evento mercoledì. Andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero. Progetto case in abbandono. Esplode la rabbia dei cittadini. Il caso di Sassa ha provocato un'ondata di indignazione. Quelle case erano bellissime. Un dolore vederle così. La grande questione della sicurezza fa il paio con la necessità di dare un futuro alle Newtown. Poi ancora andiamo avanti. Il semaforo maledetto è costato al comune 50 mila Euro. Dura replica al sindaco di Verdecchia Babbo e Carpinetta. De Angelis sapeva inconsistenti le sue chiamate di correo. Queste le polemiche ad Avezzano. E restando ad Avezzano varata la nuova giunta. Due le nuove entrate nella giunta De Angelis. Andiamo adesso nelle pagine di Sport. Passiamo al Pescara. Il terzino nella redazione del centro. Ciofani insaziabile. Pescara voglia il trissima. Usiamo la testa. Il marsicano del Delfino ha già vinto i playoff con il Frosinone. Niente social e tatuaggi. Leggo la Bibbia e amo e non amo i riflettori. Il trentenne difensore di cerchio punta alla terza promozione in carriera. Vincere con questa maglia sarebbe fantastico. Poi playoff al via. Oggi Spezia Cittadella respinta alla sospensiva del Palermo. Ma per i play out si aspetta il collegio di garanzia. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero. Palermo bocciato. Partono i playoff. Da questa sera si inizia. Il Pescara domani conoscerà la sua avversaria. Via libera della Corte d'Appello federale. Il 22 si giocherà allo stadio Adriatico. Prima di andare a vedere il servizio il Pescara del futuro punta sui talenti della C. Questa è la rotta decisa dalla squadra del Presidente Sebastiani. Prima di andare a vedere il servizio concludiamo la lettura di questa pagina sul messaggero. Teramo prosegue la trattativa con Palma. Campitelli e il patron della Juve Stabia si sono incontrate a Roma. Valutate diverse ipotesi. Ma torniamo invece alla serie B e andiamo a vedere insieme il servizio che fa un po' il sunto del caos che si è creato per la questione Palermo. I playoff partiranno regolarmente domani. La decisione arriva al termine dell'ennesima lunga giornata girata intorno al caso Palermo. La Corte federale d'Appello infatti ha rigettato il ricorso d'urgenza presentato dalla società Rosanero che chiedeva un provvedimento cautelare di sospensiva dei playoff. Così non sarà. Richiesta rigettata e dunque domani sera si partirà regolarmente con Spezia Cittadella. Sabato sera Verona Perugia. La vincente di questa sfida ospiterà il Pescara mercoledì 22 maggio nella semifinale d'andata. Gara di ritorno all'Adriatico Cornacchia domenica 26 maggio. Resta fissata a giovedì 23 maggio l'udienza, questa volta di merito, di fronte ai giudici della Corte federale d'Appello chiamata a decidere sul ricorso presentato sempre dal Palermo contro la sentenza del Tribunale federale nazionale che ha retrocesso all'ultimo posto la squadra Rosanero. Un provvedimento immediatamente esecutivo e sulla scorta del quale il Consiglio direttivo della Lega di B aveva optato per il mancato slittamento dei playoff per giocare nelle date già comunicate. Ai fini del calcio giocato tuttavia quel verdetto d'Appello conterà poco o nulla visto quello che si è deciso questo pomeriggio. Vicenda Palermo che era entrata gambatesa anche nel Consiglio federale che si è tenuto oggi. Consiglio che però non ha potuto incidere direttamente. Il Presidente federale Gravina ha ribadito la legittimità del provvedimento della Lega di Serie B. Circa il fronte playoff Gravina ha ritenuto di rivolgere nell'immediato un quesito al Collegio di Garanzia dello Sport relativamente alla individuazione della quarta società retrocessa dalla Serie B alla Serie C e dunque alla necessità o meno che si debba procedere alla disputa del playoff. Di tale parere sarà data comunicazione tempestiva alla Lega di Serie B per gli eventuali adempimenti di competenza. Intanto il Pescara continua a lavorare immergendosi nel clima tranquillo del Poggio. La buona notizia di oggi è che Gaston Brugman che ieri era rimasto fuori stamani è tornato regolarmente in gruppo disputando anche la partitella finale. Ha continuato a lavorare a parte con corse intorno al campo Alessandro Bruno lavoro differenziato sempre per Vincenzo Fiorillo, Cristiano Delgrosso e Ugo Campagnaro. Le prossime sedute, sempre singole e mattutine, faranno capire se questi giocatori torneranno in gruppo e dunque regolarmente a disposizione di Pillon. Tornando al Consiglio federale odierno sono state anche ufficializzate le date del prossimo calciomercato che torna nel formato dei due mesi della sessione estiva aperta dal 1 luglio al 2 settembre, sessione invernale dal 2 al 31 gennaio. Andiamo avanti la serie C adesso, la trattativa il vertice a Roma Palma vuole entrare nel Teramo, l'ex vicepresidente della Juve Stabia incontra Campitelli ma il patron bianco rosso non vuole cedere la maggioranza. A proposito di Teramo andiamo sulla città Campitelli Palma, la verità in una settimana incontro ieri pomeriggio a Roma il presidente bianco rosso, ci siamo dati del tempo per riflettere. Sarebbe un riscatto per due, entrambi vengono da una serie B mancata, il legale ha lasciato la Juve Stabia proprio nel momento in cui le vespe stavano per centrare il traguardo, nei prossimi giorni sono attese novità. Nel taglio basso di questa pagina, studenteschi 2019, nell'anfiteatro del Selinello, il terzo tempo finale nazionale, mercoledì sera successo per la cerimonia d'apertura al porto di Giulianova, presenti circa mille spettatori, ma torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre notizie. Il calcio a cinque con la corsa Scudetto, Acqua e Sapone serve un colpo a Scafati, ma Marella ci crede. Poi il basket di Serie B con la semifinale playoff, la Teatricerca e il riscatto, Coen col dubbio Radonjic. Stasera alle 20.30 i biancorossi al Palazzo Silvestri per tornare avanti nella serie, problemi fisici anche per Milojevic, di Emidio Gialloredo, episodi determinanti. E poi Raiola, Amatori, niente cali di tensioni, Pescara a Nardò per volare in finale, il coach dobbiamo restare concentrati. Nel taglio basso di questa pagina, Roseto, Selfie e Brindisi, giocatori e tifosi fanno festa insieme ieri nella serata di Gala. E questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa, mattino 6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, l'appuntamento chiaramente è per domani alle ore 8, grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.